Esasperato dai continui attacchi personali su Facebook, ma anche su alcune testate online, il direttore del Banco di Sardegna, Giuseppe Cucurese, ha denunciato un imprenditore di Trinità da Gultu, Claudio Addis, alla Procura della Repubblica del Tribunale di Sassari, per aver offeso la sua reputazione. Nell'esposto del 10 maggio scorso, il sostituto procuratore, Maria Paola Zara, ha disposto il rinvio a giudizio dell'impresario Idile e ha fissato l'udienza per il 16 gennaio del prossimo anno. Nel rinvio a giudizio si legge che Claudio Addis sostiene di essere vittima del direttore del Banco, pubblicando a più riprese, sempre su Facebook, un suo esposto orale, presentato alla Guardia di Finanza di Tempio, in cui dichiara di essere stato addirittura stalkerizzato dalla presidenza del Banco attraverso i suoi dipendenti per portare la sua azienda in concordato, commentando, sempre sui social, scellerato il sistema che protegge questi metodi mafiosi. Claudio Addis era arrivato perfino a incatenarsi ai caccelli della direzione generale del Banco di Sardegna in Vierimberto per accusare Giuseppe Cucurese e tutti coloro che, a suo dire, gli avrebbero distrutto la vita e la sua impresa, inducendolo perfino a tentare il suicidio. Il 16 gennaio Addis dovrà rispondere in tribunale del reatto di diffamazione.